tre donne che si vengono un messaggio in tre, uno in tre ah, eccole qua, ciao aspetta che vengo di un po' un attimo allora ok ciao posso appoggiarmi? come ti chiami? sei tu da capogruppo? si bene, dai a capogruppo da dove vieni Paolo? da zinio non so dove è mai lo stesso ascolta, tu cosa fai nella vita? lavoro questa è la prima capogruppo quando lavora nessuno lavora solo lavora indipendente, non ha bisogno come vorresti un uomo ideale? mi lavora una persona intelligente essere venuto qua stasera è intelligente questo posso dire il resto non lo so allora a nome di tutte e tre ti do questo messaggio ma voi se avete un uomo in tre come fate? spiegate io vi daremo una sera a milioni ah ecco fatti i giorni alterni ah ma tra l'altro vai benissimo giorni alterni e vai così si fa mai perdere spiega eh sì di necessità numero numero due che è la due? è là là in fondo due due dove è la due? ah benissimo bene bene non che è la due? è la due? Grazie a tutti.